Io vengo spesso, ma ottimismo come quest'anno non l'ho mai trovato. Quindi credo che ci stiano succedendo cose in Italia che aprono grandissime prospettive. Il Jobs Act offre una flessibilità, l'abbiamo visto in questi giorni, che darà alle imprese un grosso incentivo ad assumerli i giovani, a portarli a lavorare in azienda. Noi ci stiamo lavorando in maniera interessante, quindi il messaggio che posso dire è che le cose stanno cambiando e di essere ottimisti perché neanche nei prossimi anni, ma nei prossimi mesi, le opportunità ci saranno e ci saranno per molti. Grazie a tutti.